Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questa puntata risponderò a una domanda che mi viene chiesta molto di frequente, la ricevo quasi tutti i giorni e la domanda è, Ale, io voglio, voglio, voglio fare il cantante, però ho un problema, ho paura di stare sul palco, mi tremano le gambe, mi irrigidisco, non riesco più a fare niente, non riesco più a cantare, non riesco più a ricordarmi le parole, non riesco, ho paura. Ricordatevi di iscrivervi, iscrivervi, iscrivervi. Quindi questa domanda mi ha fatto un sacco pensare, perché per quanto mi riguarda paura del palco, paura proprio del palco non è una cosa che ho mai avuto più di tanto. Se ci penso, le uniche volte che avevo proprio paura del palco e avevo paura di non arrivare fino alla fine dell'esibizione era quando suonavo il pianoforte in pubblico. Col piano ho paura di fare... di sbagliare, di stonatura, eccetera, e quindi io ho paura. Quindi questa domanda mi ha fatto un sacco pensare, perciò ho un po' di domande. La prima domanda è, perché ti piace cantare? Perché senti che cantare è quello che tu vuoi fare nella vita? Per quanto mi riguarda, cantare è sempre, sempre stato l'unica cosa, la musica in generale, quindi anche il pianoforte, però soprattutto cantare, perché è la cosa che mi viene più naturale da sempre, è stata sempre l'unica cosa che mi porta felicità istantanea, che mi estranea, che anche se ho problemi me li dimentico, non ci penso. Quindi il motivo reale cui a me piace cantare è perché mi diverte, perché mi rende felice. È importante capire il perché ti piace cantare, perché alle volte ho la sensazione che a qualcuno possa piacere l'idea di cantare, perché magari la sua pop star di riferimento, il suo idolo è un cantante famoso, un cantante che fa concerti con migliaia e migliaia di persone, con stadi enormi, crew di ballerini alle spalle, con coreografie stupende, che prendono un sacco di soldi, che hanno un sacco di cose belle. Sinceramente penso che se questo è il motivo per il quale vuoi fare il cantante io sinceramente abbandonerei, nel senso che il motivo principale deve essere la musica e il canto. L'idea di diventare qualcuno solo per quello che ha, tra virgolette, perché magari è anche bello, accattivante, un bel viso, eccetera, non ti porterà a fare il cantante. Vuol dire che non è una vera vocazione nella vita, capirai che ti interessa fare altre cose. Non che necessariamente se tu vuoi diventare un cantante famoso perché ti ispidi a qualcuno, non ce la farai. Quello che intendo dire è che prima ci deve essere la passione per il canto. Il canto ti deve divertire, ti deve liberare, ti deve piacere, deve essere uno dei maggiori interessi nella tua vita. Devi proprio sentire che non ne puoi fare a meno. Ora, messo da parte che, ok, tu sai che vuoi cantare perché non puoi farne a meno, perché ti diverte, perché sei felice, pensa a un momento in cui sei stato felice. Esempio, una grande risata con dei tuoi amici, con la tua famiglia, o davanti alla tv, non so, montagne russe, cose così, dove hai riso un sacco e ti sei veramente divertito e dove dopo hai detto, ah, che bello ridere, che bello divertirsi. Pensa a quell'esatto momento e cerca di tornare in quel momento lì e fatti una domanda. Ti preoccupavi di qualcosa in quel momento in cui stavi proprio ridendo a crepapelle, in quel momento in cui ti divertivi da morire? C'era qualcosa nella tua mente che ti diceva, oddio, no, questo pensiero, questo problema? No. In quell'esatto momento non pensi a niente. Perché ti chiedo questa cosa? Perché per rispondere a questa domanda ho fatto uno studio su di me, quindi ovviamente è la mia, il mio punto di vista. Potrebbero non tutti pensarla così, però secondo me ti può aiutare. Quando io canto, quando canto liberamente, non penso a nient'altro che a cantare, alla musica, al suono proprio della mia voce, a quello che la canzone vuol dire e alle emozioni che sto provando io. Questi sono gli unici pensieri che ho quando canto veramente, liberamente. Può succedere durante un'esibizione che magari il microfono comincia a non andare bene, una cassa ha dei problemi, fai qualche piccolo errore, quindi ti distrai da questo momento di estasi e cominci a preoccuparti. Però, in linea di massima, quando tu stai cantando dovresti concentrarti solo sul suono della tua voce e liberarti, lasciarti andare e divertirti nello sperimentare, nell'esprimere emozioni. La chiave è sempre ricordarsi perché stai cantando e la risposta è perché ti rende felice, è una cosa che ti libera e ti rende felice. Quando canti, senti come dentro di te una bomba che scoppia, ok, e tu la liberi in quel momento, in quel momento è esattamente come quella volta in cui ti sei sentito felice. La stessa sensazione deve essere quella della bomba che scoppia, senza preoccupazioni, non esistono, ok, gli altri problemi. Perditi nella musica. Il primo esempio che mi viene in mente, pensando appunto alla naturalezza di fare qualcosa che si ama e all'energia che arriva al pubblico, ricordati che l'energia che arriva al pubblico è l'energia che è dentro di te. L'immagine che mi viene è quella di Freddie Mercury, che canta e con l'asta fa un giro su se stesso e alza il pugno al cielo e boom, tutta l'energia arriva sul pubblico, è come se fosse un'onda energetica, quella di Goku, che distende tutti. Ecco il motivo per cui andiamo a vedere i concerti, ecco il motivo per cui vediamo una rock star famosa, o anche no, mi è capitato alle volte di vedere persone che non sono famose per niente, ma che hanno questo impatto sulla gente che cacchio resto così con la bocca aperta. La prima immagine che volevo passarti è proprio quella di Freddie Mercury perché era una delle persone che trasmetteva quello che lui sentiva. Se tu trasmetti quello che senti, non aver paura di lasciare andare le tue emozioni, anche se si tratta di una canzone triste, di una canzone sentimentale, quello che deve uscire sono le tue emozioni. Ti assicuro, guarda, che ha meno importanza, ha poca importanza che hai fatto un errorino qui, hai fatto un errorino lì, lì non sei stato preciso, te sei stata un po' sonata, non ha nessuna importanza, chi ti sta ascoltando percepisce la forza che è in te e ricordati che la musica e il canto è comunicazione, quindi tu devi comunicare, anche se sbagli una parola, ti assicuro, ma non se ne accorge nessuno, anche se sbagli una nota e anche se se ne accorgono, non importa, non gli importa, non importa a quelle persone, ok, che ti stanno ascoltando, che hai sbagliato una nota, perché gli star, ma pensa a Vasco Rossi, ok, non è che sia il cantante proprio più preciso della terra, eppure con le parole che scrive e con il suo modo di cantare, che è proprio energia pura e sentimento, è lui che si dà agli altri, ha conquistato l'Italia e oltre, ha scritto delle cose stupende e la sua energia ti arriva proprio come quella di Freddie Mercury, boom, addosso e ti lascia disteso un knock out per terra, questo è quello che voglio che pensi quando sei sul palco, non pensare all'esibizione, per l'esibizione ti sei già preparato, lasciai a memoria, sai ogni passaggio, l'hai studiata, ti sei riscaldato, l'importante è che tu trasmetti te stesso, perditi nella musica, perditi nelle parole e dai, dai alle persone che ti stanno guardando e ti assicuro che se è un concorso, passi tu, prima di quello che è precisissimo, o quella che ha la voce di Ariana Grande, ma che non trasmette niente, la gente resta così passi tu, davvero? E se non passi non importa, non è il pubblico giusto, può esserci qualcosa che non va, qualcosa di già programmato e che specialmente quando andiamo sulle cose grosse è programmato, l'importante è che tu tiri fuori dentro di te il motivo, il motivo per cui tu canti e che è la felicità che ti dà a cantare, che ti dà la musica, ok? Io spero, spero davvero che questo video ti sia stato utile, se hai domande da farmi, se avete domande da farmi, scrivete qui sotto, oppure potete scrivermi su Facebook, potete scrivermi su Instagram, cerco di rispondere sempre il più possibile sia i commenti sia sui messaggi privati eccetera, vi ringrazio per essere stati insieme a me, vi mando un grande bacio, ricordatevi di iscrivervi, 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 baci!